Torniamo in cammino verso Firenze con Don Salvatore Miscio e il professor Mimmo Scaramuzzi. Benvenuti. Benvenuti. Allora, senza domande, senza senso. Oggi cominciamo subito. Abbiamo tra le mani la traccia per il cammino verso il quinto convegno ecclesiale nazionale. Don Salvatore, a che punto dell'indice ci porti? Beh, oggi è forse il caso di vedere quello sguardo, quel di più che noi come cristiani riusciamo a cogliere nei vissuti proprio perché lo sguardo prospettico non è uno sguardo solo nostro, non soltanto umano o di qualsivoglia sociologia, ma lo sguardo prospettico è lo sguardo di Dio. Lo sguardo di Dio che ci è stato consegnato in maniera concreta, pratica dall'esperienza, dall'esistente, dall'evento Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha consegnato uno sguardo, il volto della misericordia di Dio, così come è intitolato la bolla d'indizione dell'anno della misericordia Papa Francesco. Che cosa ci consegna in questo sguardo Gesù Cristo? Intanto la capacità di guardare all'uomo nella sua esperienza totale. A Dio non interessa l'uomo religioso, non interessa l'uomo dell'ora, del precetto, della pratica religiosa, del rito, del culto. A Dio interessa tutto l'uomo e gli interessa entrare in relazione con l'uomo nella sua storia, in quella storia che sta vivendo e quindi eventualmente in quella che possiamo chiamare una periferia, non in termini dispregiativi, ma in termini di quella singolarità dei vissuti di ciascuno, che tante volte si presentano come vissuti anche problematici dal punto di vista umano. Pensiamo all'esperienza della solitudine, pensiamo all'esperienza del dolore, della sofferenza, che per quanto problematici dal punto di vista appunto umano o sociologico, diventano a volte feritoie, esperienze, limite, che aprono un varco a questa relazionalità. A relazionalità con Dio, con uno stile nuovo da parte dell'uomo, che è lo stile dell'arresa, del dire mi affido, mi fido, ti cerco, ti percepisco anche vicino. Per cui abbiamo in Gesù Cristo un Dio che viene a cercare l'uomo, lo cerca tutto l'uomo e riesce soprattutto a incontrare l'uomo che chiede aiuto, cioè l'uomo che si apre proprio al bisogno dell'essere sostenuto, dell'essere amato, dell'essere trovato anche, del lasciarsi trovare, lasciarsi anche cercare dal Signore. Molto bella questa cosa, questa esperienza che abbiamo vissuto nell'umanità di Gesù Cristo, che è l'umanità di questo Figlio di Dio, che ci ha rivelato anche il modo di pensare, di vedere di Dio stesso. E Gesù stesso è lui anche l'uomo che si lascia sostenere dal Padre, amare dal Padre, no? Lo accennavamo anche nelle puntate precedenti. Gesù è l'uomo che vive la sua umanità, esprime tutta l'umanità che si porta dentro, avventurandosi in tutte le cose inedite che ti presenta un'esistenza, una vita, avventurandosi però con una certezza, la certezza di essere amato, di essere voluto bene, di essere sostenuto dal Padre. Per cui il suo grande desiderio è di starci dentro la relazione col Padre. E per starci dentro, sa che il modo per starci dentro è quello dell'ascolto, un ascolto che si fa obbedienza, che si fa fare la volontà del Padre. Per cui Gesù Cristo, in questo modo di gestirsi la relazione col Padre, si gioca tutta la sua umanità. E l'umanità di Cristo, nella relazione col Padre, emerge in tutta la sua totalità, in tutta la sua bellezza. Che è una bellezza dalle altissime criticità. Pensiamo che la vita di Gesù inizia con un parto in una grotta, che non è massimo, e finisce sulla croce. Non è un'esistenza senza criticità, senza difficoltà, senza momenti periferici, di periferia. Momenti di periferia dal punto di vista delle condizioni ottimali, delle cose migliori. Eppure, in questa esperienza, Gesù si porta dentro questa appartenenza al Padre, che lo salva. Lo salva dalla solitudine, dall'isolamento, dall'individualismo, lo salva da tutte quelle che possono essere le derive possibili. Non possiamo però fare a meno di vedere che ci sono problemi. Nonostante questi problemi presenti, quale atteggiamento, professore, dobbiamo cercare di mettere in atto? L'unico atteggiamento possibile all'interno di questa complessità è l'atteggiamento di Gesù. Cioè comprendere ogni situazione nel suo momento propositivo. Ci sono tante situazioni del Vangelo, ci sono tante situazioni dell'umanità di oggi. C'è la socia di Pietro con la febbre. Ma c'è la possibilità che si alzi. Allora, per gli altri c'è la febbre, per Gesù c'è una possibilità di servizio. Ma vedete che razza di donna che lo tocca, no? Quando una donna in casa di Simone, il fariseo, asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli, eccetera. Però Gesù dice, va, l'amore che tu hai profuso ti ha salvato. Perché tanto ti è perdonato quanto hai amato. Oppure, che ne so, Zaccheo. O la finale del Vangelo di Marco, una cosa straordinaria. A un certo punto il giovinetto Angelo, dopo che Pietro ne ha combinati di tutti i colori, dall'inizio fino alla fine, dice questo annuncio fortissimo alla resurrezione. Andate a dire ai miei discepoli, eppure a Pietro, che mi potete incontrare in Carilea. Cioè, questo atteggiamento è, come dire, una attenzione forte alla positività di ogni tempo. Cioè, oggi la posta in gioco della Chiesa a Firenze, della Chiesa italiana, ma forse della Chiesa di sempre, la posta in gioco è la capacità di stare dentro a questo paradosso e di saperlo vivere. Cioè, guardare al tempo, in ecclesialese si dice guardare al kairos. Ma non è guardare al kairos, è avere la competenza di saper giocare con questo kairos, che non è un tempo, no? È il telaio, no? E avere la capacità di tessere un ordito bellissimo avendo una competenza pratica, sapendo giocare su questo telaio, cioè dove le dita, come quelle dell'Apostolo Paolo, pure se diventano doppie e diventano callose, però hanno la possibilità di intrecciarli. Questo però attraverso un discorso che ha sempre il suo soggetto principale nella comunità. Cioè, quindi, educarci sempre di più al discernimento di questi segni dei tempi, però fatto in maniera comunitaria. Cioè, il soggetto del discernimento non è il leader, il capo, o il documento, o il convegno. Cioè, il soggetto di questo discernimento è la comunità. E' una comunità che si deve dare un metodo, e il metodo è questo metodo paradossale, perché è il sapere dove andare. Gesù ci dice dove si va attraverso questa, come dire, situazione paradossale di assunzione di ogni situazione dell'umano, fatto attraverso il confronto, la sinodalità, la partecipazione allargata di tutti, in maniera possibilmente, come dire, scientifica. Ma non scientifica nel senso di quelle cose proprio da ricerche, da indagini, da sociologia pura. Ovviamente, però, che non sia nemmeno tanto umorale, no? Perché altrimenti il discernimento dei segni dei tempi, come spesso succede, diventa una specie di lamentela, o diventa una sorta di ricaricarci comune per dire adesso usciamo e andiamo a fare una specie di decrociata, andiamo a combattere, o andiamo ad affrontare una sfida, andiamo contro questo Golia che si presenta. Invece è molto bella, proprio l'immagine di copertina di questa traccia di Firenze, che ci fa vedere come c'è una deposizione del Cristo nel sepolcro, c'è un'entrata di Cristo nel sepolcro, però a fianco, nella stessa cella, perché questa è la cella di un monaco, c'è una finestra da cui già entra un sacco di luce. Nel momento in cui il Cristo entra nella morte, già da fuori c'è l'intervento del Padre, quindi c'è la luce della resurrezione. Cioè, questa è la metodologia vincente, ed è questa, credo, sintetizzando al massimo, la posta in gioco del convegno di Firenze. Questa è la posta in gioco. Speriamo che questi nostri incontri siano utili a chi ci segue da casa, anche per arrivare più preparati e più consapevoli. Grazie anche per oggi, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a te. Grazie a voi. Beh, quando mi si chiede di parlare del papà o della mamma, io sento che non c'è da dire altro in questo mondo. ieri incontro una signora e mi vede interessato a una certa cosa che aveva in mano lei. Allora io le dico, ma signora, cosa porta in mano lei? Guardi, mi piace molto, dice, questa foto che ritrae i piedini della copertina di uno dei libretti. La copertina che ritrae il bambino che ha i piedi nudi e posa sui piedi nudi del papà. Il titolo della copertina è I miei passi sono i tuoi. A questo punto dico, vedi signora, ne ho tre e quattro di libretti, scelga lei la copertina che più gli piace. E lei prende subito questa copertina, i piedini nudi del bambino e sui piedi nudi del papà, i passi tuoi sono i miei. E perché l'ha scelto, dico, questa copertina? Perché sono mamma e la mamma sa bene cosa vuol dire far camminare il proprio bambino. Sa bene tutto. E essere mamma, secondo me, e allora gli ho detto, guardi, se lei dice mamma, per me lei dice Dio. Perché non c'è creatura sulla terra più vicina a Dio che una mamma, perché la mamma è un'invenzione di Dio. La mamma è quella creatura che Dio ha creato per essere capace di toccare concretamente le creature che vengono al mondo tra di noi. Quindi, ecco, Dio ha le mani della mamma, Dio ha le mani del papà, Dio ha il cuore di mamma, ha il cuore di papà. A questo punto la signora si è commossa e mi dice ma che belle parole. Non dico signora, non sono parole, è la verità. Lei è in questo mondo in nome di Dio papà. E anch'io sono qui a rivelare a lei e a tutti i papà che hanno dentro di sé il cuore di Dio. Hanno dentro di sé la capacità di amare veramente come Gesù insegna, cioè dare la vita per il prossimo. E chi è che dona la vita al prossimo? Meglio di una mamma, meglio di un papà. E a questo punto la signora dice allora questo libretto me lo leggerò veramente volentieri e poi le dirò le mie impressioni. Ciao. E dobbiamo festeggiarle tutti i giorni le mamme. Proprio per questo ci ha raggiunto il nostro amico Antonio Vigone, già pronto dall'altra parte dello studio e lo raggiungo con una frase di una famosa canzone. Sono tutte belle le mamme del mondo. Ciao Antonio e bentornato. L'altra volta però ci avevi fatto una promessa e io non vedo nessun altro. Io non ho promesso niente però eh. È tutto registrato ormai. Avevi promesso di portare con te la moglie e i bimbi. In realtà non è voluta venire. Abbiamo cercato di convincerla ma non è come il papà. È impegnata con i piccoli. È impegnata con i piccoli. Ecco e questo è un gran bell'impegno perché effettivamente fa la mamma a tempo pieno. Parliamo delle mamme oggi Antonio. Pochi minuti però vogliamo dedicare anche uno spazio a loro. Queste donne che dedicano tutta la loro vita ai figli. Sua moglie è una di queste. E allora qual è, cos'è il motivo che le spinge? Allora io penso che i motivi sono tanti. Allora primo è proprio quel senso materno che è in ogni donna. Quindi è presente in ogni donna. Poi è quell'attaccamento al nucleo familiare. Ma nello stesso tempo io penso anche che comunque a volte c'è anche un po' di, come dire, difficoltà poi nella donna dopo il parto, dopo la nascita del bambino, di ritornare a lavorare. Perché comunque non sempre viene messa poi nelle condizioni di riprendere il proprio posto di lavoro. Questa purtroppo è una delle grandi difficoltà della nostra società, della nostra comunità, che comunque dobbiamo ancora, bisogna ancora, come dire, lottare per ottenere dei risultati a tal proposito. Però nello stesso tempo a volte la mamma, come dire, dedica tutta se stessa al proprio bambino, ai propri bambini, perché comunque, sì è vero, rinuncia a qualcosa, però nello stesso tempo dà tanto al proprio figlio, ai propri figli, per quanto riguarda l'educazione, per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda l'affetto materno. E riceve anche tantissimo, dedicandosi al loro. Sì, riceve e riceve tantissimo. E allora perché tante donne invece preferiscono la carriera al mettere su famiglia da subito? Perché comunque a volte siamo anche molto egoisti, pensiamo soltanto a noi stessi. Anche se non possiamo parlare di egoismo, come dire, allo stato puro, perché comunque posso anche capire che una donna dopo aver studiato, dopo essersi impegnato tantissimo, quindi vuole ottenere anche dei risultati. Ma è anche vero che a volte poi bisogna fare delle scelte. E come dicevo poc'anzi, non sempre la carriera e la maternità riescono a coincidere. E purtroppo forse i primi problemi sono sorti quando la donna ha deciso di mettere al primo posto il lavoro, la carriera, perché ha abbandonato un po' quella che è la casa, l'educazione dei bambini, rimandandola ad altri, babysitter, nonni, eccetera, eccetera. Tante volte poi ne abbiamo parlato anche con te, che sei mediatore familiare. Quindi le difficoltà sono quelle principalmente. Qui poi entriamo in un altro discorso, cioè entriamo poi in una difficoltà proprio da parte della mamma di gestire il proprio bambino o i propri bambini. Perché non sempre i tempi della scuola, dell'asilo coincidono con i tempi del lavoro. Ma se riflettiamo, la donna ha sempre lavorato. Ha lavorato nei campi, basta pensare a circa 70 anni fa, no? Quindi dove la donna ha dovuto per forza maggiore lavorare nei campi. Successivamente la donna che ha dovuto lavorare nelle aziende, nelle fabbriche. Soltanto che probabilmente in quel periodo storico si riusciva a incassare meglio il lavoro e l'educazione dei figli. Probabilmente col tempo la situazione è cambiata, probabilmente anche dal punto di vista lavorativo si chiede sempre di più e serve una donna che comunque debba essere a disposizione 365 giorni l'anno. E sappiamo benissimo che un bambino ha bisogno della stessa attenzione. Motivo per cui molte donne scelgono di dedicarsi completamente alla famiglia, quindi di lasciare momentaneamente il proprio lavoro. Altre invece si dedicano completamente alla carriera. Dipende sempre dalla finalità, dipende sempre dal progetto che la donna ha. Comunque io penso che la donna è proprio nell'essere donna quel senso materno e quell'attenzione particolare non solo nei confronti del bambino ma nei confronti del nucleo familiare. Non a caso le famiglie che vanno avanti senza problemi sono quelle famiglie dove c'è sempre una donna che ha un carattere molto 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 forte. Forte, è vero, è presente soprattutto all'interno del nucleo familiare di cui parlavi tu. Possiamo azzardare una proposta? Magari c'è qualche uomo che ci segue, qualche donna con un gran potere tra le mani. Potrebbe essere questa una soluzione, insomma, dare un aiuto, un sostegno economico alle mamme, alle casalinghe e tenerle a casa? Sì, allora, più che sostegno economico va bene perché comunque i soldi servono a tutti, però al di là del sostegno economico serve proprio come dire... Molte volte si decide anche di andare a lavorare per aiutare il capo famiglia. Sì, ma proprio una politica completamente diversa, cioè dove si deve in un certo senso rivalutare e valorizzare il ruolo della mamma. Cioè io penso che molto spesso le donne in determinati momenti della loro vita o in determinati momenti della loro carriera o delle loro scelte sono sole, non hanno nessuno dove poter chiedere informazioni, dove poter in un certo senso confrontarsi. Sono sole e basta. Ma questo abbiamo detto anche tantissime volte anche per quanto riguarda la preparazione al matrimonio. serve necessariamente un lavoro di rete. Questo lavoro di rete deve coinvolgere la società, deve coinvolgere la parrocchia, deve coinvolgere la scuola, la famiglia. Invece a volte viene coinvolta soltanto la donna e la famiglia. Invece no. In determinati momenti la donna si deve sentire valorizzata e quindi dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche della parrocchia e quant'altro. Quindi l'aspetto economico va benissimo, però la parola giusta detta a momento giusto serve molto molto di più. O quantomeno sapere che c'è qualcuno che ti ascolta, c'è un punto di riferimenti e un problema se da chi rivolge. E tanti altri problemi non esisterebbero a questo punto. Antonio, se ci fosse stata qui tua moglie avrei chiesto a lei, che è mamma a tempo pieno, qual è la più grande soddisfazione che ha una mamma oggi, visto che i tempi sono cambiati? Anche magari facendo riferimento alla tua esperienza, quindi a quella della tua compagna. Penso di vedere crescere quei figli giorno dopo giorno. Quindi essere presente a qualsiasi cambiamento, trasformazione del bambino. Dalla prima parolina. Non perdersene una. Sì. Ma nel bene e nel male, sia in senso positivo, ma anche tutte le maraghelle che i bambini fanno nell'arco della giornata, nell'arco dell'anno, nell'arco del mese. Infatti questa è davvero la soddisfazione più grande. Invece alle mamme, poi ci lasciamo, alle mamme quelle giovani, che hanno da poco avuto un bambino e si trovano magari anche in difficoltà. Quale può essere un consiglio per superare? Di non avere paura, di non avere paura e di andare avanti, perché poi stranamente quella creatura minuscola ti dà la forza di andare avanti e di superare tutte le difficoltà. Anche perché non si nasce genitori, insomma, si impara. Lo si diventa, lo si diventa. È un cammino lunghissimo. Anche il genitore è perfetto, il genitore che conosce tutto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista pedagogico, alla fine anche quelli sbagliano, per fortuna. Perché comunque siamo delle persone. E più delle volte non siamo noi a educare stranamente i nostri bambini, ma sono loro che ci educano. Con il loro modo di fare, con i loro sorrisi, con i loro cattiveri, cattiveri tra le specie, e con la loro crescita. Quindi poi è bello sentersi dire papà, mamma, oppure è bello vedere proprio quando il bambino diventa più grande, interagire proprio col bambino, avere un dialogo, confrontarsi. Tutte e solo soddisfazioni dai figli, sia per la mamma che per il papà, ovviamente. Poi, insomma, c'è una mamma che compensa anche i vuoti lasciati da un papà che va in giro sempre. E noi conoscendo te, insomma, lo sappiamo quanto sei impegnato in tutti i campi. Complimenti a tutte le mamme che si danno da fare. Antonio, un augurio. Allora, approfittiamo anche di questa occasione per fare gli auguri alla tua moglie. Grazie. E a tutte le mamme che ci seguono, ovviamente. Noi intanto ti aspettiamo, come sempre. Quando vuoi, la porta è aperta in fuori tempo. Grazie, Antonio. Grazie a voi. Io mi concedo altri due minuti per ringraziare coloro che ci iscrivono. Siete davvero in tanti, in particolare Marco da Firenze. Arrivano sempre i suoi suggerimenti e i suoi ringraziamenti, anche per i temi che trattiamo. Noi vi ricordiamo comunque la possibilità di seguire anche fuori tempo in replica al martedì e al mercoledì, intorno alle 12.30 e ovviamente siamo sul canale YouTube Padre Pio TV. Lì si possono davvero rivedere tutte le puntate in ordine cronologico, ma anche in base ai temi che più vi interessano. E concludiamo, come sempre, facciamo in fuori tempo con una frase che vi lascia sicuramente riflettere. Ed è dedicata al tempo. Il tempo è ciò che più desideriamo, ma che, ahimè, peggio usiamo. Grazie per essere stati con noi, alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi.